Tutto pronto? Proprio mentre sta per partire, anzi è partito l'Arche de Triomphe, parte la quarta di Capannelle. Brigante Sabino è più veloce, si porta a condurre, anche ti aspetto fuori, è l'altro che ha fatto una buona partenza. Blanc Menter in terza posizione insieme allo stesso Rio Natal, poi Omnia Mundabundis, ancora domani risplendi, Flaxap e in coda Stella Cheballa. Dopo poco centinaia di metri ti aspetto fuori, rileva al comando Brigante Sabino ed è il nuovo leader. In terza posizione troviamo Rio Natal, Blanc Menter, Flaxap che ha guadagnato qualcosa in questo parziale, poi alle sue spalle troviamo domani risplendi, Omnia Mundabundis e poi Stella Cheballa in coda a tutti. Si va così ad affrontare la prima parte della curva senza particolari variazioni, seconda posizione per Brigante Sabino, in terza Blanc Menter, poi Rio Natal, Flaxap, domani risplendi, Omnia Mundabundis e appunto Stella Cheballa. Tre quarti di curva affrontata sempre in questo ordine, con in vantaggio ti aspetto fuori, subito Brigante Sabino che mette pressione, sono tutti comunque molto vicini, Omnia Mundabundis, ancora Blanc Menter, poi Flaxap che muove percorsi esterni insieme a domani risplendi, a 400 dal traguardo, ti aspetto fuori, agganciato definitivamente da Brigante Sabino, trova un ottimo varco, Omnia Mundabundis che adesso fa lo scatto, ma troviamo anche quelli al centro della pista, in particolare Flaxap e domani risplendi, ma ti aspetto fuori, è ripartito sotto i serrate di Omnia Mundabundis che adesso ci riprova, ti aspetto fuori, che ancora davanti nei confronti di Omnia Mundabundis, ti aspetto fuori, che a rientro d'aprile vince una bella corsa, secondo per Omnia Mundabundis, vince dunque Michael Arras per Flavio Gagliardi e Renzo Turchi, da Capannella è tutto. Grazie. Grazie. Grazie.